Nelle ultime due settimane, voi nelle ultime quattro settimane, avete eletto Renzi come segretario del PD. Probabilmente già sentivate la mancanza di Berlusconi. Renzusconi. Uno che dall'85, campa di politica, consigliere comunale per la democrazia cristiana, la stessa del suo amico Angelino Alfano, uno che è stato condannato in primo grado per danno erariale, ma uno normale, scusate, ma non ce l'avete.